Hola, 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 ciao a tutti X di nuovo Allora, voglio continuare a parlare dell'argomento del circolo Abbiamo parlato del circolo delle quarte e delle quinte in generale poi abbiamo parlato del circolo delle quarte perché le tonalità per quarte si espandono all'interno del circolo tramite i bemolli e l'aumento dei bemolli adesso parliamo invece del circolo delle quinte cioè delle tonalità che si espandono con una quinta ascendente di distanza e che mano a mano aumentano le loro alterazioni aumentando i diesis secondo l'ordine che abbiamo già detto Adesso facciamo lo stesso discorso che io ho fatto con il Do e con il Fa per le quarte e con il Do e con il Sol per le quinte Allora, dato che l'effetto di tonicizzazione e la tonalità vengono date maggiormente dalla serie dei due tetracordi maggiori tono, tono, semitono, un tono nel mezzo, tono, tono, semitono quindi Do, Re, Mi, Fa, Sol, Asi, Do Se guardiamo la nota Sol anche lei è una candidata abbastanza ideale a raggiungere nella maniera più facile il nuovo status di tonalità perché? Perché praticamente le manca solo una nota se io all'interno della tonalità di Do faccio una scala di Sol quindi faccio Sol, La, Si, Do e Re, Mi, Fa, Sol Sol, La, Si, Do è il primo tetracordo ed è tono, tono, semitono quindi è praticamente il primo tetracordo maggiore e quindi qui il Sol sarebbe a posto nel secondo tetracordo cioè Re, Mi, Fa, Sol però non fa quella proporzione uguale a prima cioè non fa tono, tono, semitono ma fa Re, Mi, tono, Mi, Fa, semitono fa Sol, tono quindi fa tono, semitono, tono e per questo diciamo che il Sol non riesce a essere tonicizzato ma se la nota fa naturale viene spostata di mezzo tono in alto e quindi con un diesis viene aumentata a fa diesis adesso il Sol può ottenere il suo status di tonalità e la tonicizzazione su se stesso quindi praticamente io ho in questo caso qui Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa diesis, Sol quindi tra Do maggiore e Sol maggiore c'è una nota sola di differenza che è il Fa diesis che appunto tonicizza il Sol quindi le tonalità che si muovono per quinte ottengono il proprio status di tonalità alterando con un diesis la serie della scala precedente ok? mentre i bemolli, come abbiamo detto nell'altro video la ottengono diminuendo con un bemolle una nota della serie della scala precedente ok? vi saluto e a presto